Ciao a tutti ragazzi e ragazze, belli brutti, belle brutte e bentornati in un nuovissimo video sul canale Siamo tornati in un video tutorial per parlare di un programma I'm iPhone Fixpo for Android Questo programma vi permette di riparare il vostro telefono Android in caso vi troviate in una di queste situazioni Per esempio il vostro telefono Android non riesce ad accendersi oppure non riuscite a spegnerlo Il vostro telefono Android si può trovare anche in una totale schermata bianca o in una schermata nera Se non riuscite a metterlo nella modalità Download Mode che corrisponde alla modalità DFU per iPhone Se il vostro telefono è bloccato oppure se non riuscite ad aggiornarlo Un'altra cosa molto interessante è che potrete direttamente riavviare il telefono da questa applicazione Se non riuscite a farlo con i tasti ovviamente fisici che sono presenti sul vostro telefono Successivamente potrete riparare il telefono quando quest'ultimo è bloccato nell'accensione Quindi è in continuo boot loop, quando è bloccato sul logo Samsung al momento dell'accensione Oppure quando il vostro touchscreen non funziona Quindi in tutti questi casi potrete utilizzare questo programma per riparare il vostro telefono Android Quindi ragazzi vediamo come scaricare il programma Ovviamente vi dovete recare il link che metterò nella descrizione in questo video Vi renderizzerà in questa pagina e dovete andare a cliccare ovviamente su Free Trial E il download partirà in base a sinistra Ci tengo a precisare che questo programma è compatibile soltanto per Windows Eccoci qua tornati all'interno del software La prima cosa da fare ovviamente è toccare su Start Toccato su Start dovrete andare a mettere tutte le informazioni relative al vostro dispositivo Android In questo caso il brand è Samsung Ovviamente perché questo programma funziona solo con dispositivi del brand Samsung Successivamente Device Name che è la versione cioè il tipo di dispositivo che può essere Galaxy S7 Galaxy Note o il Galaxy A In questo caso io dispongo di un Galaxy S7 Successivamente il Model Number che troverete sulle informazioni del dispositivo Nell'applicazione impostazioni Nel mio caso G930F La regione, il paese in questo caso Italia E Carrier che non è altro che l'operatore telefonico Nel mio caso Vodafone Successivamente andare a cliccare su Download Firmware Cliccando su Download Firmware ovviamente inizierà il processo che scaricherà la versione del sistema operativo relativa al vostro telefono Android Ovviamente successivamente aver scaricato il firmware non dovrete fare altro che collegare il vostro dispositivo al computer e metterlo nella modalità Download Mode Vi lascerò una guida qui in descrizione che vi dirà come farlo sia se disponete di un dispositivo Android con un tasto fisico quindi con un Home Button O anche se disponete di un telefono Android senza comunque un tasto fisico Quindi questa è praticamente la guida che state appena vedendo Ovviamente appena collegato il telefono e messo in Download Mode Il programma rileverà direttamente il telefono che avete collegato e comincerà subito a ripristinare il firmware Quindi utilizzerà il firmware, la versione del sistema operativo che avevate scaricato per inserirlo nel telefono Android Ovviamente appena inizierà il processo, questo processo sarà irreversibile Quindi appena il dispositivo si accenderà ovviamente avrete perso tutti i dati Quindi questo non avviene se avevate già effettuato un backup Quindi da lì potrete ripristinare i vostri dati Ovviamente questa è la schermata che aprirà appena il processo sarà completato Ovvero ha completato l'operazione sul vostro dispositivo Quindi ha fissato il vostro dispositivo Ovviamente se non vi ricordate la password del vostro Google Account Potete utilizzare iMyFone LockWiper per bypassare la verifica iMyFone LockWiper è anche un video che ho fatto sul mio canale YouTube E ve lo lascio praticamente in descrizione per andare a vederlo Quindi ragazzi in sé il programma è questo Il nome del programma è iMyFone Fixpo for Android Troverete il link in descrizione per arrivare ovviamente alla pagina per scaricare questo programma È un programma affidabile C'è sia la versione Free Trial che è quella diciamo gratis È una versione di base Che ovviamente è la versione a pagamento Io vi consiglio di provarlo Magari se lo utilizzate e vi serve Vi consiglio di upgradeare alla versione a pagamento Bene ragazzi per questo video è tutto Io vi invito a mettere like, a commentare, a iscrivervi al canale Di passare anche dai miei canali secondari Ditemi cosa ne pensate di questo programma nei commenti Per questo video è tutto Ciao a tutti ragazzi Konnichi Borja Connichi Borja Connichi Borja